salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video registrato alla vecchia maniera in presa diretta con l'audio direttamente dell'iphone nonostante il video sia di qualità penso eccellente il background fa un po' desiderare l'audio è più che sufficiente però ecco diciamo nella perfezione non monterò assolutamente nulla quello che vedete è il video definitivo ecco state per vedere un close up di ogni singolo fottuto particolare di questa pistola quindi se siete indecisi su qualche pezzo su come fate eccetera eccetera ve li farò vedere tutti ecco perché il video sarà lungo e forse noioso per alcuni o magari asmr per gli altri non sbatterò più la pistola sul tavolo comunque prima di iniziare vi consiglio vivamente di iscrivervi e attivare la campanellina se vi piacciono questo tipo di contenuti perché ne arriveranno tantissimi altri ogni pistola riceverà almeno cinque video in complessivo e li ho già fatti li sto caricando li ho già programmati ne usciranno ne uscirà una settimana quindi ho al massimo uno ogni due settimane a seconda del tipo di programmazione comunque i video ci sono per piacere iscrivetevi ma ancora più importante ragazzi fatelo adesso così non ve lo scordate mettete mi piace oppure non mi piace e commentate magari commentando quello che posso migliorare in questo tipo di contenuti nel caso abbiate messo non mi piace anche se le persone che hanno messo non mi piace probabilmente non mi ascoltando in questo momento questo è molto importante fatelo vi lascio un altro po di tempo perché in questo modo condividete questo video con gli altri appassionati come me e come voi probabilmente ma soprattutto mi aiutate mi motivate per fare tutti gli altri video che ho in mente perché se vedo che questi video fanno cinque views in un anno io mi sparo con questa pistola e probabilmente non mi uccido neanche comunque iniziamo col video dopo due minuti di introduzione abbastanza inutili oggi parliamo della fantastica samurai age della vue basata sul modello tokio marui in questo caso fabbricata e distribuita direttamente della vue e marchiata in modo abbastanza originale stars io sono un grandissimo fan di resident evil quindi questa replica non poteva mancare nella mia nella mia collezione ho giocato quasi tutti i giochi con qualche piccola eccezione e l'ho sempre adorata partiamo come sempre dal caricatore questa è una replica a gas non dovrebbe esistere una versione co2 ma probabilmente è compatibile con il caricatore co2 della b92 originale della vue quindi non lo so però dovrebbe essere caricatore in un metallo particolare a differenza di molti altri caricatori che hanno la mia replica perché è in metallo lucido scivola benissimo dentro l'arma ragazzi come mi diceva mio fratello l'altro giorno questa qua anche se costa un po meno delle altre repliche che ho è un po la low budget della mia collezione diciamo ragazzi entra alla perfezione si incastra la perfezione scivola che è una meraviglia bisogna bisogna provarlo proprio per 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 attestarlo ecco comunque continuiamo vedere il caricatore sotto abbiamo scritto se lo riesco a mettere a fuoco m92f military model qualunque e qualunque cosa voglia dire e abbiamo la valvolina del gas a vista purtroppo ma comunque stiamo parlando di un'arma che non costa troppo a se io non parlerò di performance di prova di tiro di altro quello è tutto nella recensione nella prova di tiro che trovate o troverete nel canale quindi in questo video ve la faccio solo vedere senza dire praticamente nulla qua abbiamo il caricatore non si incastra qua in basso però si prende abbastanza bene anche per chi come me non ha le unghie si carica abbastanza facilmente come caricatore anche mettendo i pallini da qua caricatore che tiene all'incirca 20 colpi direi una valvola un po particolare diversa delle altre speriamo che non si rompa fino adesso non sia rotta e qua abbiamo questa guarnizione ma metà via tra il duro e il morbido dovrebbe essere abbastanza resistente diciamo qua abbiamo incastro per lo sgancio il caricatore un po piccolino da tutti e due i lati e qua abbiamo purtroppo due perni vista che tengono fissa la parte bassa del caricatore ok ora inseriamo il caricatore dell'arma e andiamo a parlare dell'arma in sé partendo dal basso abbiamo una costruzione completamente in metallo con poche eccezioni a parte qualche pezzo interno le guancette sono in plastica ben rifinita oddio non tanto da sembrare legno perché si vede da un chilometro che non è legno però dai diciamo che una buona via di mezzo considerando il prezzo qui abbiamo i logo originali stars dai quali viene via la vernice io ho applicato uno strato di vernice trasparente per sistemare questo qua ne parlo nella recensione sia da una parte che dall'altra qua è un po più cancellato qua abbiamo zigrinature per facilitare l'impugnatura sia davanti che dietro e abbiamo uno sgancio caricatore posizionato qui con anche questa bellissima rientranza si preme molto bene questo sgancio caricatore come nelle altre beretta non bene quanto su altre aree però diciamo abbastanza bene una volta premuto esce un po dall'altro lato a differenza di altre pistole ecco diciamo chiaramente non è ambidestro ok salendo leggermente abbiamo un grilletto con trigger guard guardia grilletto anch'esso zigrinato nel frontale come in altri modelli ad esempio come nella glock magari per facilitare l'impugnatura guardia grilletto come del resto il resto dell'arma ragazzi un metallo opaco molto bello nero opaco grilletto in realtà non proprio di ottima fattura di un metallo diverso è dello stesso metallo del caricatore penso quindi nero lucido a differenza non è opaco come il resto dell'arma e non è proprio un gran piacere nella nella sua corsa e anche proprio al tatto però dai io ho sentito di peggio diciamo questo è il grilletto lo faccio vedere anche armato eccoci qua l'arma non è carica quindi posso sparare dopo aver tolto la sicura perfetto dopodiché saliamo sull'arma vediamo il tasto che smonta l'arma togliamo il caricatore così più leggera sono mi cade il braccio ragazzi mi cadono le braccia tenendo premuto questo tastino qua dietro si solleva questo perno qua vedete perché altrimenti senza sollevare il perno questo pezzo non va giù tenendolo premuto quindi facendo così si fa scorrere questa leva in basso ed è possibile smontare l'arma lo smontaggio lo faccio vedere un altro video quindi in questo non lo do per scontato che l'arma si smonti qua abbiamo un numero seriale finto abbastanza carino inciso quindi molto piacevole e qua abbiamo l'hold open dell'arma e nelle beretta ragazzi l'hold open magari lasciamo l'arma normalmente nelle beretta l'hold open è pura poesia è molto indietreggiato e si preme con una facilità estrema molto molto bello sia il materiale anche presente a questa angolazione molto figa e molto bello da prendere giriamo una pistola dall'altro lato qua abbiamo praticamente la prolunga del grilletto la cosa che fa azionare il grilletto questa è una cosa che si vede su poche pistole come la beretta ce l'abbiamo esposto fuori e se togliamo la guancetta vediamo proprio la sua operazione completa ecco abbiamo il il perno questo perno qua che credo che nell'arma da software non serve a niente però nell'arma originale serve per lo smontaggio penso per ospitare qualcosa e per finire abbiamo dei loghetti qua sotto sopra il trigger guard che non vogliono dire nulla apparentemente ap psi qualcosa di cinese probabilmente no non lo so è una finta finta vitina qua su perfetto abbiamo finito di parlare della parte bassa dell'arma ecco magari mostriamo anche questo termine tecnico non mi viene comunque questo componente che ci impedisce alla mano di andare in su mentre si spara adesso proprio non mi viene il termine comunque e poi iniziamo a parlare del carrello dell'arma che è un po la parte più bella forse non lo so da questa parte la parte sinistra l'arma abbiamo la scritta stars rp special team come nella versione tok marui e come nella versione nel gioco con queste zigrinature molto belle sia da una parte che dall'altra non così profonde come su altre repliche però molto piacevoli che dovrebbero facilitare il caricamento nel caso volete caricare da qua operazione un po sconsigliata perché sull'avere la canna brucia mentre si spara ma vabbè dall'altro lato invece di avere questa scritta abbiamo la scritta mod samurai edge law enforcement use only questa scritta non è presente su tutte su tutte le varianti soprattutto sulle tok marui penso ci sia scritto come nel gioco originale kendo che kendo scusate il gioco di parole è la persona che fabbrica queste armi nell'universo del gioco c'è questo kendo che ha il suo negozio di armi davanti alla centrale di polizia e fabbrica queste armi non so se esistono varianti tok marui con questa esatta scritta probabilmente ci sono anche nel gioco le varianti con scritto mod samurai edge lo enforcement use only ma è un dettaglio che in pochi notano comunque a noi fa molto piacere perché è inciso molto bello qua c'è il finto estrattore in realtà è semplicemente inciso dell'arma non è un pezzo come su altre repliche e qua abbiamo le zigrinature che c'erano anche dall'altro lato faccio vedere la sicura poi passiamo alle tacche di mira qua c'è un pallino rosso da questo lato un pallino rosso da quest'altro lato la sicura questa bellissima rientranza va un po scatti ma c'è anche la sicura è in metallo nero lucido a differenza del resto dell'arma che opaco qui abbiamo due configurazioni diverse per lato dell'arma qua è così dall'altro lato è diversa però in teoria ambidestra anzi anche in pratica ambidestra anche se fa un po schifo rega e poi parliamo delle tacche di mira tacche di mira che sinceramente non mi ricordo se sono regolabili o no quella dietro di sicuro no questa è una finta tacca di mira regolabile perché in realtà in realtà è solo avvitata però forse si può fare qualcosa in regolazione ma questo se ne parla nella recensione qua c'è un coso che in realtà non so che cacchio sia ragazzi ok c'è un incisione fatta così sinceramente non l'avevo mai notato proprio sincero e qua abbiamo tacca di mira frontale probabilmente regolabile prima di parlare del davanti dell'arma della canna faccio vedere le verniciature non proprio perfette qua è molto sbavata qua dietro delle tacche di mira e il il cane eccolo qua nero ha un po di gioco ma niente di esagerato e questo è il retto dell'arma lo faccio dare anche scarrellato un po questo non è proprio una bella vista soprattutto perché dietro a sotto a questa parte grigia però dai c'è di peggio tra l'altro c'è anche il finto percussore inciso nella vernice il grilletto che anche questo bellissimo buchino oltre alla zingrinatura ok parliamo un attimo del frontale dell'arma abbiamo qua il guidamolla penso si chiami qua della molla e la bellissima canna cromata di cui parlerò in un secondo prima parliamo del filetto qua quest'arma volendo con un adattatore si può silenziare e abbiamo anche la finta rigatura quei segni che vedete nota di merito molto particolare hanno scelto di utilizzare una canna interna non di ottone ovvero cioè probabilmente è di ottone all'interno sinceramente non me le ricordo comunque la parte che vediamo qua fuori è argentata quindi non si vedono fastidiosi passaggi di colore dall'oro al argento molto molto bella canna cromata bellissima però anche sia al tatto che alla vista magari in viso non rende troppo ma vi assicuro che è molto bella da proprio una sensazione incredibile al tatto estremamente liscia ecco magari un po poco resistente sembra al tatto un po leggerina però fa la sua figura alla vista poi faccio vedere l'arma scarrellati faccio vedere qua la camera del pallino e qua si vede la testa cilindro col cilindro eccetera 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 faccio vedere anche davanti scarrellata e poi la scarrello eccoci qua perfetto e questo è in tutta la sua magnificenza la samurai edge della ve in tutti i suoi particolari se ho dimenticato qualcosa ragazzi commentatevi vi mando le foto in privato ve le spedisco via posta non lo so perché mi vergognerei anche di farlo perché dovrei aver detto praticamente tutto ecco ho dimenticato questo pernetto qua qua c'è un pernetto e niente ragazzi per questo video è tutto non sto a ripetere le cose dell'intro se non iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto noi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi